Anteprime Six Sisters mancano poche puntate per la fine di questa nuova settimana. Elisa ne combina un'altra delle sue la sop'opera ambientata a Madrid nel 1913. Riesce a conquistare esattamente come le serie italiane che l'hanno preceduta, grandi ascolti. La trama inizia quando viene a mancare il padre delle sorelle Silvia che, per salvare loro reputazione e la loro situazione economica, in assenza di fratelli maschi, sono costretto a mentire sulla morte del padre per cercare di portare avanti gestione della fabbrica. Questo accade in un momento molto complicato, tutte e cinque le sorelle avevano infatti debuttato in società e stavano già cercando marito mentre Elisa, l'ultima arrivata, è stata ad un passo da questa cerimonia. Sarà stata forse la giovane età a coinvolgere la più piccola della famiglia in maniera molto irruenta rispetto alle altre sorelle. La voglia di debuttare trova il grande amore, supera per capire le difficoltà economiche che la famiglia sta attraversando. I maggiori sono costretti a farlo riflettere e a spiegargli che il suo debutto va rimandato. Elisa allora combina una delle sue, si rivolge alla zia che le confessa di non essere in realtà la figlia del padre defunto, ma del marito. A differenza delle sorelle Elisa è figlia di un amore clandestino della madre con il cognato. Riconosciuta da quest'ultimo, decide di chiedere dei soldi per debuttare mettendo in crisi il resto della famiglia e in molti cominciano a sospettare la morte di Don Fernando. Come se non bastasse, Elisa pretende anche di vendicarsi con le sorelle richiedendo alcuni oggetti cari appartenenti alla famiglia. Anteprime Six Sisters Elisa di un disastro i primi episodi della serie si sono concentrati maggiormente su Diana che insieme a Salvador cerca di aiutare tutti i malati di Vaiolo. Quando riceve la proposta di matrimonio non può andare in giro a causa delle gravi condizioni di salute della sorella Francisca. Incrociate, tutte le sorelle Silva cercano di tornare alle loro normali attività e in particolare Elisa ancora una volta è in calza sulla questione del debutto. In realtà, la sorella minore si sta occupando di organizzare la festa per una sua cara amica. Nella puntata di oggi German consegna ad Adela una lettera di Don Mauro che, quando viene letta, sconvolge la donna. Elisa, invece, tornando di nascosto dalla festa che aveva organizzato all'amica a un bruttissimo incidente.